Poco personale al lavoro e livello di servizio all'utenza scadente, è questa la fotografia attuale dei quattro uffici postali presenti in città. La settimana successiva al ferragosto non si è aperta nel modo migliore sia per l'utenza che per i dipendenti di poste italiane. I motivi della limitata presenza di personale vanno ricercati nelle ferie estive a cui hanno diritto i lavoratori. Le segretarie sindacali di SLP Cisle e Will Post hanno emesso questa mattina un comunicato stampa unitario per stigmatizzare la carenza di personale. Denunciamo unitariamente, si legge nel documento, la grave situazione che si registra presso tutti gli uffici postali di Licata dal giorno 18 del corrente mese. A Licata Centro, l'ufficio di Piazza Linares, due soli operatori più un terzo applicato soltanto al servizio postale da stamattina sono chiamati a garantire i servizi di banco posta e pagamento a bollettini a un'utenza sempre più numerosa visto l'afflusso turistico che si registra in questi giorni in città. Il personale è ulteriormente ridotto, continuano i due sindacati, durante il pomeriggio quando a svolgere il servizio a Licata Centro sono due operatori, uno per tutti i servizi finanziari e l'altro per il solo postale. La nota delle organizzazioni sindacali passa poi a fare il punto della situazione per quanto concerne gli uffici distaccati. La succursale di Licata 1 di via Colombo, continuano Cisle e Will, è stata chiusa per poter garantire al personale le due settimane di ferie estive previste dal contratto di lavoro, mentre un solo operatore è presente sia alla succursale 2 di via Architetto Licata che alla succursale 3 di via Gela. Si tenga presente che entrambe le succursali abbracciano un vasto bacino d'utenza e risulta impossibile, oltre che fortemente stressante per un solo operatore, farvi fronte. E che inoltre in questi giorni vengono pagate le pensioni IMPDAP e la disoccupazione agricola. In conclusione del documento, i due sindacati ribadiscono il dovuto rispetto del contratto di lavoro e il diritto al godimento delle ferie estive del personale dopo un anno di lavoro e invitano l'azienda poste italiane S.P.A. a considerare anche la situazione di insofferenza e di forte disagio dei cittadini utenti che affollano gli uffici e che sono costretti a lunghe file. E quindi, è la chiosa finale, a coprire vuotito organico in questi giorni di sovraffollamento estivo durante i quali la popolazione raddoppia quanto al numero di residenti che ha richieste di servizi efficienti e rapidi. Poste italiane dal canto suo si è difesa spiegando innanzitutto di scusarsi con l'utenza per eventuali disservizi. Ci troviamo, spiegano dall'ufficio comunicazione territoriale, in una settimana in cui i lavoratori godono del periodo di ferie. La chiusura di qualche ufficio era preventivata da tempo per questa settimana e la situazione nelle altre succursali potrebbe essere stata aggravata da qualche assenza improvvisa che verificeremo.